Molte, molto suggestive, ormai ormai noi siamo diversi anni e la facciamo. E' in uno dei borghi più belli d'Italia che da quasi 50 anni l'arte e l'artigianato si incontrano. Mi piace molto, mi piace molto perché immagino che questa sia una bottega storica e quindi un po' ritornare, no, anche con un taglio un po' più moderno, dà anche un senso di continuità. A D'Inghiari è tornata la mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana, la 48esima edizione in programma sino al prossimo primo maggio. C'è ancora di più un connubio tra le nostre tradizioni, ovviamente artigianali e artistiche in primo piano, ma le bellezze culturali e architettoniche di questa splendida città, ma non solo perché la denominazione è allargata alla Valtiberina, quindi tutta la nostra zona che ovviamente è un punto anche ormai molto conosciuto per quello che riguarda le produzioni agroalimentari, quelle della ristorazione e quindi un'accoglienza turistica a tutto tondo che valorizza questi splendidi posti. 44 le botteghe aperte per l'occasione, alle quali si sommano quelle permanenti per un totale di una cinquantina di espositori. Si va dal ferro, al legno, dalla pietra all'oro e preziosi. Per noi era la prima volta e siamo molto contenti perché inizia oggi, ma c'è una bella aria, una bella condivisione anche tra i vari artigiani e quindi siamo sicuri che sarà una bellissima esperienza. Immaccabile poi un angolo dedicato al tombolo. Per noi è sempre stato in auge, nel senso che quando una cosa ti appassiona non si lascia mai. Noi qui abbiamo anche una scuola, quindi mandiamo avanti la tradizione. Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con il comune di Gradara ed il pieno coinvolgimento del liceo artistico Giovagnoli. Abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro istituto d'arte di Anghiari, la scuola d'arte come banca del tempo, dunque quelle che sono i vecchi mestieri, di proiettarli nel futuro. Ci sarà la possibilità da quest'estate di farla diventare anche un corso estivo laboratoriale per i tanti turisti che sono qui ad Anghiari. Dunque si coniuga la parte dell'artigianato con l'arte ma anche e soprattutto con la parte commerciale e con la parte turistica perché è l'elemento che di fatto mantiene vivo le nostre comunità e ci proietta nel futuro.